Siamo qui a San Piero in bagno, oggi abbiamo visto che c'è il mercatino dell'artigianato abbiamo notato queste cose particolari fatte anche in fimo da questa signora qui che si chiama e ci racconta, come ti chiami? Sara, Sara Tallarico Sara, ecco, ci racconti la tua arte Eh, niente, sono tutte costine fatte a mano, sia con il fimo, con la pasta di fimo e una imitola tuna Aspetta, che vediamo tanto avanti così le vediamo bene Sì, con queste costine, qualche stelle Ecco, che le fai proprio tu La pasta di fimo, che cosa sarebbe? La pasta di fimo è tipo una pasta, tipo il Das, che però va cotta nel forno Si intuisce cuocendolo e quindi dura Dopo lo colori, quindi tu puoi fare le forme che vuoi e le colori C'è la pasta colorata oppure si colora con la pittura Poi ci sono le candele e poi il trasferimento di immagine Che le fai sempre tutte tu? Sì Sì Poi cosa faccio a vedere? Questi poi sono fatti con la gomma crepla La? La gomma crepla E sarebbe spiegacelo No, sono quelli di gomma Gomma eva, gomma crepla, come si chiama In tanti modi faccio queste borsine Faccio questi cerchiettini con le prigiocesse Che belli, ma sono tutte cose curiose Ecco questi pocanetti con la bambolina con il primo Bellissimo Poi anche i fiori Facci vedere tutti i fiori Bellissimi Quindi sono tutte cose appunto che fai Anche quelle borse lì di dietro Tutte per bambino Queste sono addobbate Sono un po' Beh, comunque le fai sempre tu? Sì Ecco E poi ci sono queste borsine E poi anche il primo Ecco, fa vedere qua C'è il ricotter, il sailor Insomma, tutte le cose Mi piacciono i bambini Sì, che piacciono anche all'adulti Ti dico Ok E poi c'è la mia passione Ecco Faccio Allora La mia passione Le mie collane sono state impostate da una modella di perugia Davvero? Sono stupende Sempre le fai tutte tu anche queste collane Allora, facciamole vedere bene Sono tutto materiale che vengo in America Queste si sono fatte con la polvere di ceramica Madonna, sono originalissime Quasi tutti i pezzi unici Sì, sì, sì Questo è un cabucho con la farfalla Questa è molto bella Anche sono tutte Sono stupende Volevo dire, dove ti possono trovare? Oltre al mercatino qui Hai una pagina Facebook? Hai qualcosa dove noi possiamo fare? Ecco, guardiamo, scusa, anche questi orecchini qui Quindi fai tutto Tu anche qui Mamma mia Sono tutti originalissimi Ecco, diciamo ai telespettatori Che magari Dove ti possono trovare? Sì, la mia pagina su Facebook È Sara Creazioni Bijou Ok E poi dopo Oltre alla biciotteria Trovano anche Tutte queste orecchiettistiche Queste cosine per bambina Più che altro Quindi dopo sulla pagina Tu scrivi dove ti possono trovare Spedisci anche Venti a me su Sì Allora noi ti ringraziamo tantissimo Facciamo fare una carrellana Per far vedere Alle creazioni di Sara E noi ti ringraziamo Saluto Sara Ciao 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 Io voglio Io voglio Io voglio Io voglio Io voglio Io voglio Perfetto Facciamo Voilà Perfetto Grazie Sara Grazie